Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con la notizia. Il punto della settimana che verrà è anche un po' i giorni che sono successi prima. Quindi lo facciamo insieme a Sergio Meazzi che è qua in studio con me. Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Senti Sergio, io con te volevo parlare un attimino di colori perché qua la cosa non è così tanto chiara come magari era così qualche mese fa. Oggi arancione, arancione scuro, rosso, poi ci sono dei comuni che continuano a essere in zona rossa, altri che dicono che arriveranno a essere in zona rossa. Però l'informazione non è proprio così chiara e limpida. Bollate è rossa, Mede, provincia di Pavia rossa, Vingiu, Varese è rosso. Il resto di Milano è arancione, arancione scuro, com'è questa cosa qua? No, manca totalmente in effetti un'informazione. Devo dire che appunto questa cosa dei colori un po' ha stufato a tutti, diciamo la verità, dai. Si può dire. Perché oggi ci sono arancione, poi gialli, poi rossi, poi in giro in una settimana, è tutto veramente molto difficile. Dopodiché una persona deve pure sopravvivere al lavoro, ai figli, ha tante cose da tenere a bada e quindi anche questa cosa può destabilizzare un pochino. Mentre prima c'era appunto, sapevamo che la Lombardia era in zona rossa, arancione, verde, eccetera, eccetera, e sapevi che tutta la Lombardia era così, oggi ovviamente all'interno della Lombardia ci sono tante città e è anche difficile comunicarla questa cosa. Devo dire che la cosa che è però positiva è che forse è arrivata la primavera, no? Perché il sole ci rende un pochino forse tutti più felici e nello stesso tempo pare che sia anche uno strumento per evitare il trasporto del virus, il caldo. Lo sentivo proprio ieri, magari poi se vuoi ne approfondiamo, lo sentivo un esperto che parlava di inquinamento, sole, caldo, legato proprio al coronavirus. Interessantissimo. Senti, io però volevo parlare con te anche di un'altra cosa perché abbiamo visto tutti delle immagini di assembramenti, no? In Darsena, però a me è capitato anche sabato pomeriggio di fare un giro in Piazza del Duomo, che sono passato con mio figlio, però c'era una sorta di concerto in Piazza del Duomo con musica e quello non era un assembramento anche quello lì. Cioè nel senso due pesi, due misure o è tutta la stessa misura? Penso che qualcuno gli avesse dato un permesso, no? Sì, penso sicuramente di sì. Ovviamente in base ai colori ci sono anche ciò che puoi fare e cosa non puoi fare. Giallo puoi ovviamente circolare tranquillamente nei parchi e quindi anch'io domenica mattina sono andato a fare un giro, come il mio solito cammino parecchio, anche per verificare un po' la situazione, se c'è qualche problema. E ho notato che per esempio il parchi erano completamente pieni di bambini, di mamme, di papà, che giustamente... Ma posso dire una cosa, oramai dopo un anno e mezzo di, come dire, limitazione delle libertà individuali, e non a caso ho detto è arrivata la primavera e il sole, è del tutto evidente che le persone non ce la fanno più, no? Io per primo non ce la faccio più, ma credo che anche tutti quanti all'ascolto ora avranno la mia stessa idea, no? È pesante perché ovviamente se stai a casa con la nebbia ci sta, ma quando c'è un sole stupendo, bellissimo, come fai a stare a casa? Ma come fai? È impossibile, no? È impossibile. Io, l'ho detto forse altre volte, lo ribadisco, bisogna necessariamente studiare delle idee per la ripresa, metterle in campo, perché non puoi più trattenere, tra virgolette, con la forza le persone in casa, non è più possibile. E quindi è del tutto evidente che appunto capita in Darsena che succede quella roba lì, ma nello stesso tempo ti posso garantire che nei parchi cittadini c'erano degli assembramenti normali di bambini, di ragazzi, di mamme, di papà, di nonne. E poi, dico anche questo, non è un caso che in tutta Europa sono successe cose analoghe a quelle che sono successe in Darsena. Berlino, Monaco, Francoforte, Vienna, Graz, Innsbruck, Parigi, Lyon, Marsiglia. Tutti hanno avuto un problema di assembramenti fatti da giovani con musica, forse fatta anche magari appositamente, proprio per far capire e per poter pronunciare il proprio disagio. In tutte queste città europee e altre, che adesso non ricordo, hanno avuto problemi simili. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il problema è alla radice. Bisogna ovviamente iniziare a ripartire. Insicurezza, insicurezza. Per esempio, voi sapete che in Austria le mascherine fuori non le mettono. Le mettono solo quando si entra nei negozi o nei loghi chiusi. Ma all'aperto le mascherine non ci sono. Ora non dico che bisogna togliere le mascherine, sia ben chiaro. Non voglio fare anch'io il no. È un'opinione, stiamo facendo opinione. Però, insicurezza, bisogna provare a rimettere in piedi delle situazioni condivise con i cittadini e con la popolazione affinché si possa ripartire. Regole poche e chiare. Poche e chiare. Poche e chiare. Lo dico tre volte, perché molto spesso abbiamo tante regole e poco chiare. Senti, tra l'altro poi nei giornali riportavano ultimamente che i giovani sono stati i migliori, i più bravi e si sono comportati benissimo. A me viene da dire ma ai giovani è stato chiesto qualcosa, perché secondo me quelli più giovani hanno subito e basta, devo essere onesto. A scuola la mascherina ti metti la mascherina. Non è che gli hanno detto ma volete non volete, cosa ne pensate. Secondo me non è che i giovani sono stati i più bravi, non hanno avuto scelta su queste cose qua. Poi posso dire anche che sono stati bravi. Io voglio difendere i giovani, perché trovo ingiusto attaccare i giovani per delle questioni che hanno colpa. Noi abbiamo avuto dei ritardi nei vaccini, nei ritardi nella sanità, nei ritardi, nei ritardi, nei ritardi, nei ritardi scarichiamo sugli ultimi, sui giovani le colpe. È sbagliato. È sbagliato oltre che non essere vero. Ma posso dire che mediamente i giovani sono stati veramente bravi. Guardate che io, ma credo anche voi, quando abbiamo scoperto che si doveva effettuare un lockdown, che si doveva avere delle regole, mascherine, eccetera, mediamente sto dicendo, dopodiché ci sarà qualcuno che dice, no ho visto un giovane che non aveva la mascherina. Certo, mediamente, però si può dire che i giovani hanno rispettato le regole, mediamente. E poi però dico anche questo, una cosa è certa Paolo, tutti noi abbiamo avuto 16 anni, questo è un dato che è tutti noi. Allora io a volte penso, ma avere 16 anni ed essere tra virgolette costretto, anche senza virgolette, a rimanere in casa, a rinunciare ad andare a scuola, a vedere gli amici, eccetera, eccetera. È veramente uno sforzo notevole a 16 anni, a 16 anni voglio di uscire, giocare, divertirti, vedere persone, vedere… no, l'hanno fatto, i giovani l'hanno fatto, poi può capitare che magari ci sia, ma insomma 16 anni, è abbastanza normale. Però ecco, anche per loro io penso che sia necessario provare a ripartire. Hanno un diritto, hanno il diritto di vivere la propria gioventù, hanno il diritto, questo è il diritto. Perfetto. E senza pensare anche alle attività sportive… Eh certo. Perché c'è tanti ragazzi, ma ragazzi e ragazze, non è che c'è quello che gioca calcio e basta, ci sono anche le ragazze che giocano a pallavolo, che vanno a fare danza, che vanno a fare… Ma io sono sicuro che tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo in questo momento hanno ovviamente dei figli che fanno appunto degli sport, sanno perfettamente di cosa parlo, come noi abbiamo dei figli. È quella roba lì, è quella roba lì. Certo. Come c'è da spezzare una lancia anche in favore dei professori delle scuole, che secondo me a lavorare così con la dad a distanza sicuramente non è una cosa facile, no? No, non è per nulla facile. Credo anche che il tema sia un po' il livello di concentrazione. Se è vero, come è vero che abbiamo noi nell'arco della giornata tot minuti a disposizione per concentrarci, no? Ci sono dei minuti che servono praticamente per apprendere e concentrarci. Io sono convinto che a distanza è un po' un problema la concentrazione del ragazzo, no? Quando hai davanti un pc e puoi ogni tanto magari staccare il video e anche ovviamente l'audio, è ovvio che una distrazione in più c'è, ma è anche giustificata, no? È anche giustificata. Quindi i professori che fanno e che hanno fatto fino a ora questo grandissimo lavoro credo che siano veramente da elogiare, da apprezzare. Così come però bisogna apprezzare anche i ragazzi che con mille difficoltà ci hanno provato anche loro, anche io ho dei figli in università, hanno fatto il loro dovere. Però su questo per esempio una delle cose che si dovrebbe nella ripartenza è provare ad amplificare questo ragionamento della distanza, perché io sono abbastanza contro, credo che la scuola sia anche il rapporto, sia anche il fatto di vederci e in qualche maniera anche di toccarci. Però è anche vero che da qui a domani vi possono essere delle situazioni dove l'utilizzo del mezzo possa risultare intelligente e anche utile. Quindi bisogna fortificare le linee e dare la possibilità a tutti i ragazzi di poter avere l'alternativa, perché molto spesso il problema che hanno avuto anche i nostri ragazzi sono problemi di connessione, sono problemi di mezzo, di pc, di computer e purtroppo non tutti, lo so perfettamente perché anche come Municipio Sè abbiamo fatto un lavoro in quella direzione, cercando di aiutare quei ragazzini che non avevano la possibilità di avere una linea, non la fibra, una linea in casa, oppure addirittura il computer, quindi abbiamo provato ovviamente a tappare i buchi laddove si poteva farlo e con tutte le nostre forze, ma credo che sia uno dei fenomeni che noi dovremmo portare in espansione, questo di dotare tutti i ragazzi di una connessione e anche di un mezzo per poter assistere eventualmente alle elezioni. Senti Sergio, parliamo di un tema vaccini, Milano, Lombardia è indietro, è inutile, ci sono dei ritardi. Io la dico così, non voglio essere frainteso, per la Lombardia non è la prima volta, l'ho detto in altre occasioni, ma lo dico perché è un dato di fatto, questa macchina della sanità lombarda che è stata concepita con un'idea, alla prima occasione dettata da una pandemia mondiale, quindi una cosa assolutamente inaspettata per tutti, è andata in tilt, cioè quella eccellenza lombarda oggi non è più un'eccellenza lombarda, è diventata una macchina complessa dove si fa fatica ovviamente a raggiungere l'emergenza. Può un dottore avere mille, un dottore della mutua, un dottore di base, un medico di base si chiama adesso, può avere 1200 pazienti? Io faccio una domanda, un medico può avere 1200 pazienti in un momento di pandemia? Come fa? Ma come fa? Quindi è un modello che deve essere ricostruito, deve essere rifatto, non funziona così, ne hanno dato dimostrazione delle altre regioni, come il Veneto per esempio, che ha puntato ad una sanità intanto pubblica e poi anche di prossimità, è stata la regione molto virtuosa dal punto di vista della pandemia, quindi questo dovrebbe essere il momento di provare a riflettere per migliorare la sanità in Lombardia. Dopodiché i vaccini, anche qui bisogna scegliere con chi stare, io credo che su una questione mondiale si debba necessariamente iniziare a dire alle case farmaceutiche che producono questi vaccini, caro mio devi abbassare le tue pretese, perché qui non si tratta più di un discorso solo ed esclusivamente commerciale, sappiamo tutti che esiste il discorso commerciale, però qui si tratta della sopravvivenza di milioni di persone nel mondo e quindi tu qui fai un passo indietro. Posso elogiare una nazione? Io elogio Cuba, intanto a Cuba sapete chi è uno dei ricercatori più bravi? È un italiano che è andato a Cuba a lavorare, a fare il ricercatore ed è uno dei ricercatori che ha concorso alla creazione del vaccino, Cuba dice che questo vaccino ne produrrà in maniera enorme per tutti e lo darà gratuitamente a tutti i paesi che ne avranno bisogno. Io se fossi l'Italia, se fossi il Presidente Draghi una chiamata a Cuba la farei, perché più aiuti ci sono fra gli Stati, penso che in questo momento sia una cosa utile e positiva. Certo, tra l'altro Cuba è un punto di riferimento per la medicina? Assolutamente sì, anche a livello oncologico mi dicono che è molto forte, puntano molto sulla sanità di base, i medici cubani non hanno 1200 pazienti cada uno, su questo è poco ma sicuro, sono molto bravi nella medicina e sono capaci, adesso non so se si può, ma lo diciamo così, c'è una pillola blu che qualcuno utilizza e viene da Cuba, quindi questo per dire che riesce in qualche maniera a creare delle medicine che possono avere più funzioni, anche funzioni sociali da un punto di vista dell'autostima in quel caso specifico, poi è nata per un'altra ragione, è nata per altri problemi, però viene utilizzata anche per un'autostima personale del maschietto e quindi come dire è sicuramente una nazione all'avanguardia. Certo, senti Sergio, terminiamo il nostro appuntamento settimanale con il nostro punto di vista con la notizia e ovviamente ci vediamo settimana prossima, ci sentiamo settimana prossima e a tutti voi dico potete seguire l'appuntamento della notizia su nostre pagine YouTube Milano 1, sentirlo in Spotify, tramite Spotify in podcast, quindi so che siete in tanti che ci seguite con questo mezzo e d'altronde sembra che sia il momento, tutti cercano i podcast, i podcast e quindi sentite e guardate quando volete, quindi Spotify, la notizia, appuntamenti con me e Sergio e niente, ci vediamo settimana prossima, ci sentiamo settimana prossima, grazie, alla prossima. Buona serata a tutti, grazie, ciao.